pietro ubaldi l'ascesi mistica dal piano concettuale umano al superumano edizioni mediterranee sentiremo poi più da vicino l'incendio di quelle sublimazioni di spirito per cui dalla fase di ispirazione cosciente si passa a quella di unificazione mistica ma è necessario prima comprendere e spiegare razionalmente e scientificamente il fenomeno prima di abbandonarsi all'impetuoso lirismo della visione è necessario inseguire il fenomeno in ogni sua manifestazione morderlo nella sua nuda realtà con tenacia di analitico è necessario dare prima di tutto piena soddisfazione alla ragione è una nota fondamentale nell'evoluzione del fenomeno medianico dal piano fisico al piano psichico incosciente poi cosciente fino alla unificazione mistica con la sorgente una progressione di coscienza di intervento volitivo e nello stesso tempo di smaterializzazione di elementi il problema si fa sempre più astratto e affonda nell'imponderabile questa è la sua legge la sua continuazione il processo del suo sviluppo mentre conquista di coscienza porta alla propria smaterializzazione e vi è una progressiva conquista del fattore morale una ascendente realizzazione di purificazione spirituale una trasformazione in peso specifico sempre più libero e leggero